Buongiorno e ben trovati a tutti. Siamo qui per annunciare una nuova nascita. Noi come Accademia Eldegarda, per chi non ci conosce, siamo un'accademia che ispirandosi a Santa Eldegarda e avendo un'origine nella materia della psicoterapia, nel settore della terapia e della relazione d'aiuto, ci occupiamo della cura della persona a tutto tondo, ovvero in maniera integrale. Per noi cura vuol dire partire dalla prevenzione perché sappiamo che quando si ricorre alla terapia è già il fallimento di un'attenzione al benessere e il vero benessere è tale solo se è integrale, ovvero se include mente, corpo e spirito nell'integrazione e nel potenziamento reciproco e anche l'interazione del contesto con la persona, quindi contesto di appartenenza e benessere della persona. Bene, noi sappiamo che per avere cura e attenzione alla persona bisogna formarla, ma bisogna anche offrirle opportunità di conoscenza e di consapevolezza ed è proprio in base a questo nostro auspicio, a questo nostro intento, che oggi vogliamo annunciarvi una cosa bellissima. Sta per partire una iniziativa veramente innovativa insieme all'Accademia di Angelosofia, di cui qui oggi ospitiamo il dottor Fausto Bizzarri e Don Marcello Stanzione, che adesso ci introdurranno brevemente a questo mondo nuovo che si affaccia nell'interazione con l'Accademia Il Degarda. Allora, bentrovati Fausto e Don Marcello. Che ci dite di questa nuova iniziativa? Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Si tratta di portare il tema dell'angelo in una modalità nuova, in una modalità più aderente, diciamo così, all'attuale psicologia, all'attuale realtà tangibile dell'essere umano, per cercare di fare rivivere quello che anticamente i padri del deserto, i padri della chiesa vivevano. C'è una spiritualità molto intensa legata all'angelo, perché questo poi formava in loro e nelle persone che a loro erano vicine una completezza nella persona, una unicità, una monos, da questo deriva anche la parola monaco, una unicità particolare in cui loro c'erano delle potenzialità straordinarie e le persone riuscivano effettivamente a fare dei cammini estremamente potenti, estremamente realizzanti. Ecco, noi cerchiamo di mettere in contatto le persone con il centro che è Dio e gli angeli sono servi di Dio, gli angeli vivono nel massimo benessere, tra gli angeli non c'è depressione, tra gli angeli non c'è tristezza, gli angeli sono gli esseri più felici della Terra. Quindi il nostro è un obiettivo, come dire, globale di benessere dell'anima e del corpo insieme. Questa è l'angelosofia e questa è la terapia di Santa Iltegarda. Grazie.